Io ho 84 anni, sono venuto qua a venti e sono 64 anni di attività, perciò sono 84. Allora, gli anni quando sono subentrati i Veneti, perché prima c'era solo gente del paese e paesi limitrofi che venivano a bere un quartino, ma dico come… e poi sono arrivati i Veneti per il lavoro, perché anche qua se non arrivavano da fuori quelli del paese erano coltivatori, non è che facessero altre attività o ci fosse… poi facendo la zona industriale, essendoci le fabbriche, si sono inseriti e poi il paese si è sviluppato. Era con tutte casette, non c'erano i bagni, si viveva come… io venivo dalla campagna e non c'erano né i bagni, né le case, né l'acqua potabile, niente. C'erano i bagni fuori, se eri in una casina e poi l'acqua c'era un rubinetto fuori e si viveva così. Col piccolo giardino si prendevano le verdure, il pollame, si viveva… e anche piove, si era così quasi tutti, perché non c'erano mica le comodità, si viveva così. Si andava al pascolo, si bevevano i russelli, perché non c'erano le… purtroppo era tutto genuino. Adesso invece la vita è cambiata, perciò era… era una vita tranquilla, si andava scalzi, perché allora si portava solo le zoccole, si allevavano le galline, i pulcini, le oca, addirittura i bacchi da seta che noi li abbiamo tenuti, perché avevamo i gelsi, andavamo a strappare le folie e poi avevamo la camera dove avevamo messo proprio tutti i piani con i bacchi da seta. Quando è nata mia figlia più grande, Natalina, le ho fatto il colfino e la cuffietta di lana d'angora, del coniglio. Pensa a te. Ciao Franco. Era così. E poi portavamo le maglie con la lana di pecora filata. non pungeva perché avevamo freddo, mi portava quella.